Bentornati su MyFootballGersey. Oggi torniamo in Italia e andiamo a vedere la prima maglia della Fiorentina per la stagione 2022-2023, nella versione FAN. Il design della collezione 2022-2023 si ispira alle geometrie del nuovo logo della Fiorentina e valorizza gli elementi identitari del club. La forma diamante del crest che si dirama pulsante dal cuore, la V de i viola e il motto BLEI TO PLAY TO BE DIFFERENT. Nel kit home, dal petto, ovvero dal nuovo logo del club, si irradiano quadranti concentrici a toni di viola alternato, così da evocare i battiti del cuore e la passione di chi indossa e sostiene la maglia viola. In tutte le maglie si trova sul colletto, lato esterno, la scritta PLAY TO BE DIFFERENT, un invito a distinguersi pieno di energia e impegno che esalta il concetto di unicità proprio di chi è orgoglioso di essere diverso dagli altri. Questa maglia è molto bella. Nella mia classifica avrebbe preso 4, ma vista la qualità di questa versione FUN ho deciso di dare 5 stelle, veramente meravigliosa, curatissima in ogni particolare, raramente mi capita di vedere una versione FUN così bella. Qui in alto vedete il costo che, ribadisco, per questa versione è veramente bassissimo, strepitoso. La maglia è stupenda, perfetta in ogni particolare, con un tessuto traspirante veramente bellissimo che vi consiglio di vedere dal vivo. Spero che il video lo renda, ma dal vivo secondo me è strabiliante. Vi ricordo che in descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, quindi a questo punto non vi resta che mettere alla prova il sito. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Se il video vi è piaciuto, se la maglia vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Peraltro lasciatemi anche qualche commento su quale maglie vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!